58 secondi e tre decimi, Palermo deve recuperare un punto e poi ci sarà ancora tanto da giocare perché adesso ci saranno i falli, vediamo la situazione intanto di questo attacco, gli ultimi tre di Palermo non sono andati benissimo, Cupido, Miccio, ancora Miccio, pallone va fuori per Cupido, si fa vedere Russo, non riceve il pallone, lo riceve adesso, 8 secondi, bisogna andare dentro, provare il tiro, ci prova Russo, colpisce il paro da dentro, 34 secondi a termine, sorpasso Palermo, 48 a 47, 28 secondi, ci saranno due azioni, Ballardini, prova d'entrata e qua dentro il pallone, impossibile, la palla è andata dentro, time out, 8 secondi, ci saranno due azioni, Ballardini, prova d'entrata e qua dentro il pallone, impossibile, la palla è andata dentro, time out. Grazie a tutti, grazie a tutti.